Tutti contro la regione in difesa di Mobit, il consorzio capeggiato da Cap che riunisce gli attuali gestori del servizio di trasporto pubblico locale che, salvo ripensamenti, il 22 novembre dovrà trasferire tutto il suo patrimonio a otolinee toscane della francesera Tepè che si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio in tutta la Toscana per 11 anni e 4 miliardi di euro e che in questi giorni ha inviato 500 lettere ad altrettanti rappresentanti di istituzioni, associazioni di categoria e sindacati per ricordare le tappe della gara e smontare i toni di allarme che arrivano da più parti. La regione è finita sotto una pioggia di aspre critiche dopo aver scelto di procedere all'assegnazione senza aspettare i pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato dove sono ancora pendenti cause che potrebbero ribaltare la situazione. Il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio Lapietra, ha presentato un'interrogazione al ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli per sapere quali azioni voglia intraprendere a tutela degli interessi nazionali rispetto a una gara che agevola un'azienda di Stato francese in contrapposizione alle norme europee sugli appalti. La fretta della regione, le parole del senatore, risulta incomprensibile se rischia di cancellare tutte le aziende del trasporto pubblico locale e favorire un'azienda controllata da uno Stato straniero. Pronta la replica dell'assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, parole gravi del senatore Lapietra che chiede al governo di violare il principio di illegalità. È una cosa molto grave invocare un presunto interesse nazionale di fronte a procedimenti previsti dalle norme italiane ed europee per l'espletamento di una gara e un vero e proprio attentato allo Stato di diritto. Ma all'indirizzo della regione arrivano anche gli attacchi del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Maurizio Marchetti, che ha presentato un'interrogazione per chiedere che venga garantito il regolare proseguimento del servizio agli attuali gestori in attesa delle sentenze. Intervengono anche Confindustria Toscana Nord, che ricorda alla regione che Mobit ha il diritto e il dovere di vedere le pronunce del tare del Consiglio di Stato prima di essere di fatto estromessa dal servizio, e l'Assemblea della CTT Nord, che comprende 81 comuni toscani, che ha deliberato l'impegno di tutti i soci a sensibilizzare la regione affinché non proceda fino alla definizione delle liti pendenti davanti ai giudici amministrativi.